ciao a tutti e bentornati sul canale io sono nicola e sono le 6 e 30 di mattina e quindi sono ancora un po assonnato mi trovo qui a porto azzurro sull'isola d'elba come vedete è tutto deserto meraviglia e vi voglio portare con me insieme ad evo 2 a scoprire l'isola nei punti migliori comunque nei punti panoramici per farvi apprezzare appieno la qualità di questo drone che dopo circa un mese e mezzo di utilizzo ritengo davvero il migliore in assoluto per la qualità di foto e video io tra l'altro ho la versione da 8k quindi evo 2 base mentre c'è anche la versione evo 2 in versione 6k quindi evo 2 pro che è ancora migliore di questo e non oso immaginare che cosa può essere vi ricordo che poi evo 2 andrà in vendita sotto costo nel nostro shop a fine mese quindi se poi ne volete approfittare monitorate lo shop e aggiungetevi anche il gruppo di telegram così da rimanere sempre aggiornati andiamo a vedere che cosa verrà fuori in questo periodo qui all'isola 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,4,5 It's a night we'll both remember Oh, sweet surrender Oh, we're moving close together Wanna make your body mine Through the night Hot and sweet through the night Come on Let's get out Fast and slow I wanna get to know you I know a place where we can go It's just around the corner And I say, oh Oh, it's a night we'll both remember Oh, sweet surrender Oh, we're moving close together Wanna make your body mine And I say, oh Oh, it's a night we'll both remember Oh, sweet surrender Oh, we're moving close together Wanna make your body mine Oh, it's a night we'll both remember Oh, it's a night we'll both remember Oh, it's a night we'll both remember ragazzi questo video con evo 2 di autel robotics termina qui fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se vi è piaciuto il video ci vediamo presto con tante novità vi ricordo che a fine mese andrà in mente appunto lebo 2 nel nostro shop un saluto dall'isola d'elva e da questa meravigliosa spiaggia